Si chiama Pastral ed è un veliero che appartenrebbe alla organizzazione non governativa spagnola Proactiva Open Arms, sarebbe di nuovo diretto verso il mar Mediterraneo centrale, la rotta sfruttata dai miranti in partenza proprio dalla Libia. L'avrebbe fatto sapere la stessa ONG e avrebbe utilizzato le seguenti parole, niente più importante che denunciare l'impunità di chi condanna a morte così tanti invisibili, salvare vite umane in pericolo in mare è un obbligo, non una scelta. Mi ricordo che oltre al veliero Astra, l'ONG disporrebbe addirittura della imbarcazione chiamata Open Arms, questo sarebbe il suo nome. Grazie per la visione in primis di questo video di oggi, in secundis per l'ascolto, staremo a vedere come si evolveranno le situazioni per quanto riguarda la, chiamiamola Astra, il veliero che sarebbe dell'ONG Proactiva Open Arms. Un saluto, grazie, al prossimo video da Naratore Italiano.